Sindaco, si ricompone l'Aggiunta, il plenum dell'Aggiunta a Sansevero, lei nomina due nuovi assessori? Sì, nuovo assessore alla cultura e alle politiche comunitarie, Celeste Iacovino che è avvocato, ricercatore universitario, imprenditrice e la figlia di Raffaele Iacovino. Non devo dire io chi è stato Raffaele Iacovino per Sansevero e per la Capitanata, sindaco, medico e intellettuale di grandissimo profilo. Per me è un onore avere la figlia in Giunta, credo che abbia tutte le prerogative culturali per poter dare un contributo valido all'amministrazione e alla città, come anche Antonio Cicerale, figura che mi è stata indicata dalla lista civica alla svolta per Sansevero, un amico innanzitutto, ma una persona che mi ha sostenuto sin dall'inizio. È stato tra i primi ad aderire al progetto di Sansevero Bene Comune, mettendo a rischio la propria figura anche di fronte a un eventuale insuccesso. Io credo che sull'affidabilità e la voglia di fare, sulla competenza sia di Antonio, del dottor Cicerale, che di Celeste, dell'avvocato Iacovino, la città può essere sicura. Quindi adesso parte una fase in cui dopo un primo momento di studio, di analisi e di soluzione anche dei problemi che ci sono caduti tra capo e collo, adesso si apre invece una fase di azione che deve essere tra mille difficoltà però determinata, coraggiosa e volenterosa di dare le risposte che la città si aspetta. Consentitemi di dire, noi abbiamo realizzato a Sansevero una fase di grosso cambiamento. Abbiamo messo in archivio un ceto politico che ha governato per 20 anni. Abbiamo proposto alla ribalta politica persone che non avevano mai amministrato. Ci può stare che in una prima fase di reale oggettivo cambiamento ci sia stato un momento di studio, di preparazione e di analisi. Il cambiamento comporta anche questo. Nel momento in cui si rinnova bisogna anche accettare che chi si propone abbia la possibilità di carburare come un motore diesel. Parte lentamente ma poi nel momento in cui è partito va spedito con coraggio, senza paura. Noi abbiamo la determinazione, il coraggio e non abbiamo paura di alcuno se non della nostra coscienza con cui siamo sempre stati a posto.